Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Antonino Spinalbese al grande fratello VIP7 si è ritrovato a parlare della famiglia Rodriguez. Tra le ultime dichiarazioni del concorrente, ce n'è una in cui dice che Cecilia è completamente diversa dalla sorella Belenna. Al settimanale Chi, in edicola mercoledì 23 novembre, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno commentato per la prima volta le parole dell'ex cognato. In particolare, Ceco ha chiusato. A volte mi verrebbe da dirgli perché dici queste cose. Si è buttato in un mondo tutto nuovo per lui. A fare eco alla futura moglie, ci ha pensato Moser, Antonino è spontaneo, ti stupisce nel bene e nel male. Secondo il punto di vista di Ignazio, l'ex cognato a volte sembra essere un ragazzo dolcissimo e romantico, mentre altre volte sembra una persona surreale per i discorsi che fa. All'interno del reality show, Spinalbese ha confidato di essersi avvicinato ad Oriana Marzoli perché somiglia a Cecilia. Quest'ultima con sarcasmo ha chiusato. Almeno avesse detto Belenna.